Allora sono le diciotto e dieci e quindi cominciamo. Devo dire che col fatto che c'è la garantita la videoregistrazione il numero dei partecipanti diminuisce di volta in volta, però che dobbiamo fare, anche se sarebbe bello che le persone partecipassero in diretta al corso perché ovviamente ha un'altra dimensione, modalità. Intanto benvenute, benvenuti, bentornate, bentornati. Oggi siamo al quarto incontro su sei previsti dal corso sul municipalismo. Oggi parliamo dell'esperienza del confederalismo democratico in Rojava, diciamo in generale dell'esperienza kurda e non solo. Abbiamo con noi Caterina Tedone che sarà la relatrice e Cristiana Gallinoni che farà da facilitatrice, insomma che dialogherà con Caterina e quindi sono un po' loro a gestire questo incontro. Come sempre c'è una prima parte ampia, quindi Caterina ha a disposizione tutto il tempo che ritiene necessario per raccontarci un po' questa esperienza che lei ha vissuto anche direttamente e poi ci sarà uno spazio per riflessioni, domande, considerazioni nella seconda parte. Io non aggiungerei altro, ovviamente anche questo incontro che video registrato poi verrà messo a disposizione nella solita playlist di cui manderemo il link. Darei immediatamente la parola a Cristiana e a Caterina che decideranno poi come articolare l'incontro. Vai Cristiana. Allora sì, buonasera a tutte e tutte, grazie innanzitutto per averci coinvolte in questo ciclo di formazione su un tema così importante. Speriamo, auspichiamo che oggi diciamo la minore partecipazione sia anche dovuta al fatto che ci sono in tutta Italia tantissime mobilitazioni per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne e quindi però noi siamo qui e siamo qui anche a formarci, a autoformarci su uno di quelli che è i pilastri cardine del confederalismo democratico, quello della liberazione delle donne. Quindi insomma in qualche modo siamo qui anche oggi a mobilitarci anche noi appunto attraverso questo momento di condivisione e di scambio. Allora io ovviamente adesso non tolgo spazio e tempo a quella che è la parte di cui sono da Caterina e io sono appunto, sarò qui insomma come elemento di facilitazione e per poi raccogliere gli interventi, le domande che scaturiranno non dal racconto, dalla narrazione, dalla condivisione che ha preparato Caterina grazie alla sua esperienza. Sia io che Caterina facciamo parte della Gineology in Europa e in Italia, ovvero della scienza delle donne, di questa articolazione del movimento delle donne kurde e del movimento kurdo più in generale, che anche qui in Italia porta avanti la sua esperienza di formazione, autoformazione e scambio soprattutto di costruzione di scienza delle donne. Appunto come accennavo oggi Caterina ci introdurrà e connettendosi con quello che è stato insomma anche gli altri incontri precedenti ovviamente questo sul confederalismo democratico è uno sguardo fondamentale per comprendere come si possono articolare i percorsi di comunalismo, di autoorganizzazione, di autogestione, di autogoverno o come la chiamano le kurde di autoamministrazione dal passo. Appunto il confederalismo mondiale delle donne, il confederalismo kurdo ha come pilastro anche quello della liberazione delle donne per cui il movimento grazie ovviamente a Shalan che è già stato citato più volte il leader kurdo in carcere da più di vent'anni, in isolamento da tantissimi anni ad Imrali, ha sintetizzato nei suoi testi e articolato subito dopo la nascita del cambio di paradigma del confederalismo democratico anche la necessità che il movimento delle donne dopo essersi organizzato, dopo essersi strutturato, dopo essersi separato e rimesso a disposizione della rivoluzione kurda desse vita alla scienza delle donne e quindi a una strutturazione, articolazione non accademica, non scientista di tutta quella storia, sociologia, vita, nozioni, mitologia che è stata in qualche modo messa da parte, scavalcata dal... mi sentite? Sì, sì, sì. Ok, scusate che il computer ha dato segni, questo è l'effetto del patriarcato che esiste a differenza di quello che dice qualcun altro e che appunto avesse la necessità di articolarsi anche in questa forma e quindi questo è un po' il lavoro che insieme a Caterina e tantissimi altri compagni in Italia, in Europa e in tanti altri paesi, a partire ovviamente dalle montagne del Rociava stiamo provando a fare, ma io appunto non voglio togliere altro spazio, l'intervento di Caterina oggi è ancora più importante perché ci racconta una rivoluzione che si sta continuando a fare ora per ora, giorno per giorno, da sostanzialmente il 1978 in poi quando è nato il PKK, ma dal 2005 in poi quando appunto è avvenuto il cambio di paradigma in particolare, che è anche oggi quando se ne parla molto di meno, in continuo sotto attacco, continuamente sotto attacco da parte della Turchia e quindi è importante ancora oggi, ancora di più, continuare a parlare di questa realtà, di questa rivoluzione che sopravvive e soprattutto che si è raccontata in tutto il mondo, ha costruito percorsi divisi con movimenti rivoluzionari in tutto il mondo, zapatisti compresi, l'ultimo incontro appunto con Raul Zibesi, ha avuto tantissimi punti di connessione con quello di cui parleremo oggi e quindi eccoci, insomma io lascio la parola a Caterina, sono a vostra disposizione poi per raccogliere interventi, domande e continuare il dialogo. Va bene, grazie Cri, grazie Marco, allora io adesso proverò a mettere di nuovo le slide che ho provato già prima, dovrebbero andare, sì ho deciso, innanzitutto vi ringrazio per avermi appunto chiamata per fare questo incontro e ancora di più vi ringrazio che mi avete dato la possibilità di tirare fuori la mia parte creativa, perché è la prima volta che in realtà faccio slide per spiegare alcuni concetti molto complicati e mi rendo conto che è meglio averle, perché appunto l'esperienza del confederalismo democratico parte da una teoria molto ampia e poi nella pratica diventa ancora più complicata, diciamo, da riuscire a immaginarsela e quindi ho cercato di fare delle slide che potessero un po' anche visualizzare quello che sta succedendo più che solo parlare. Ok, inizierò con appunto dei piccoli cenni storici, diciamo, ma proprio piccoli, anche se Cristiana ha già comunque detto qualcosa. Quando nasce perché? Appunto come ha detto Cristiana, il confederalismo democratico, l'idea del confederalismo democratico nasce esattamente nella prigione di Imrali, da parte del leader del movimento kurdo, del PKK, del partito dei lavoratori del Kurdista, che dal 1999 è in isolamento totale nel carcere appunto isola di Imrali. Attraverso questo isolamento diciamo che lui ha cominciato a, in realtà, a leggere molto, ovviamente. Ha letto diversi autori e autrici, quindi ha letto sia autori anarchici, sia autori marxisti leninisti. Ovviamente la base del PKK è marxista leninista, però lui ha avuto la possibilità di, anche nella tragedia dell'isolamento, di poter approfondire diversi temi, soprattutto partendo in realtà dalla sua esperienza del perché, del perché lui è stato arrestato attraverso un complotto internazionale da diversi stati egemonici. Quindi analizzando non solo la storia di per sé, la storia di varie ideologie e della pratica di varie ideologie, ma anche partendo dalla sua esperienza, dall'esperienza dei suoi compagni e delle sue compagne nel partito e dall'esperienza del popolo kurdo. Uno dei libri, diciamo, che a noi ci piace dire che è stato uno dei libri fondamentali di influenza per Abdullao Jalan è Ecologia della libertà di Bookchin. Ovviamente da questo libro lui prende le analisi, infatti incomincia ad analizzare, a chiedersi in realtà, a farsi tante domande. Uno, che cos'è lo Stato? Che cos'è la democrazia? Che cos'è la libertà? Che cos'è la rivoluzione? Che cos'è il socialismo? Ovviamente sembrano tutte domande molto così, semplici, ma in realtà hanno tutte, sono domande che noi tutti dovremmo chiederci sempre, no? Da dove nasce il nostro pensiero? Che cosa intendiamo noi per tutte queste parole? E attraverso analisi, attraverso letture, analisi storico-politiche, sociali e anche personali, individuali, diciamo, è riuscito a capire che in realtà la rivoluzione, ad esempio, è il superamento dello Stato, ma lo Stato come? Che cos'è lo Stato esattamente? Appunto è il potere, è il pensiero del potere, quindi in realtà non è solo uno Stato che fa cose, che opprime la società, che opprime le diversità, eccetera, ma è anche una forma mentale, una forma mentale che si riproduce in tutte le nostre relazioni, forme del potere che non solo sono all'interno di istituzioni sociali, ma anche all'interno delle relazioni personali, delle relazioni comprese, la prima innanzitutto, tra uomo e donna. Quindi attraverso questi studi lui riesce a comprendere che, infatti come ha detto anche Cristiana, nel 2005 c'è il cambio di paradigma, che è esattamente un cambio di visione, un cambio di visione di tutto quello che è stato fino ad adesso, quindi di analisi e nel 2005 dichiarò che appunto solamente il confederalismo democratico in Kurdistan, inizialmente lui parla di Kurdistan, può liberare il popolo kurdo, quindi non era più necessario fare uno Stato kurdo, proprio perché lo Stato di per sé ha la forma del potere, ha la forma dell'oppressione e elimina le differenze. Ma non solo può liberare il popolo kurdo, ma anche tutti gli altri popoli presenti in territorio kurdo, infatti come diceva anche Marco all'inizio, la rivoluzione del Rojava non è solo una rivoluzione kurda, ovviamente arriva dal popolo kurdo in forma organizzata, ma in Rojava noi ritroviamo turkmeni, ceceni, armeni, siriani, assiri, kurdi appunto, arabi, quindi è una rivoluzione che parte dalle differenze e quindi di conseguenza in realtà lui anche dice che può essere una soluzione per tutto il Medio Oriente e forse anche questo potrebbe essere abbastanza evidente, soprattutto nell'ultimo periodo rispetto al conflitto tra Israele e Palestina, quindi una possibile soluzione. Ovviamente Ojalán ha studiato, ha avuto sempre rapporti col popolo palestinese, con la resistenza palestinese, quindi di conseguenza ha cercato di pensare non solo a livello locale, ma anche a livello globale. Nel 2007 nasce diciamo la prima forma organizzata nel partito, mentre prima il partito era il PKK con delle forme gerarchiche anche all'interno, nel 2007 nasce la prima forma organizzata che si basa sull'idea del confederalismo democratico, che appunto nasce il KJK, che è il Koma Jivaken Kurdistan, che è l'unione delle comunità del Kurdistan, quindi non l'unione del Kurdistan, ma delle comunità all'interno del territorio kurdo, e il KJK, che è la Koma Jivaken Kurdistan, che è l'unione delle donne del Kurdistan. Dico questo perché diciamo che è proprio la prima forma, sono le prime organizzazioni ombrello che noi ritroviamo nell'organizzazione dei popoli presenti sul territorio kurdo. Io andrò un po' velocemente, se poi volete fare domande fatele, però cercherò di non fermarmi troppo sulla questione ideologica perché è importante capire molto la pratica, però devo fare degli accenni a livello ideologico perché se no non si capisce la pratica, però cercherò di non fissarmi troppo. Il confederalismo democratico appunto si basa su tre pilastri, noi li chiamiamo pilastri. Il primo è la liberazione della donna, il secondo è la democrazia partecipativa e la terza è l'ecologia sociale. Ovviamente in questi tre pilastri possiamo aprire mondi perché sono basati su analisi storico, sociale, politici e su proposte di soluzione. Il primo pilastro, come diceva appunto Cristiana, è il pilastro fondamentale, quindi la liberazione della donna, che non vuol dire uguaglianza tra uomo e donna, ma che cos'è la liberazione della donna? Ovviamente il primo punto è che la donna viene vista come prima colonia, prima oppressione, prima classe nella storia, quindi appunto attraverso tutte quelle analisi che Hojalan, leggendo libri anche di femministe, la cosa bella del confederalismo democratico è che riesce a mettere una serie di teorie insieme e a farne una sintesi, quindi riesce a criticarle e a prendere anche il buono per riuscire poi ideologicamente a creare il confederalismo democratico. Donna come prima colonia cosa significa? Che secondo il movimento kurdo e Hojalan la prima oppressione della storia è avvenuta sulla donna, quindi con l'avvento in realtà delle prime civilizzazioni egemoniche e nel caso del Medio Oriente, della Mesopotamia, noi risaliamo ai sumeri, si passa da avere una società, diciamo che noi le chiamiamo matriarcali, nel movimento kurdo noi le chiamiamo società naturali, proprio per non mettere, perché spesso nel nostro pensiero matriarcali è in contrasto col patriarcato, in realtà ha proprio un'altra forma il matricentrismo, la matriarcalità, quindi noi le chiamiamo società naturale dove però era tutto che girava intorno al valore della donna, ma non donna vista come biologica, una madre biologica, ma piuttosto con quei valori di cura, di società, di comunitarietà, eccetera. E quindi noi possiamo vedere attraverso quest'analisi che è anche un po' lavoro di genealogi e che tra l'altro anche Bookchin fa nel suo libro Ecologia della libertà, per quello che comunque ho nominato questo libro, possiamo vedere una società che passa da essere ugualitaria, pacifica a una società che invece incomincia ad essere egemone, dove il potere è in mano praticamente agli uomini, quindi dagli dei maschi, nel senso mitologico, a imperatori e poi presidenti e poi possiamo continuare. Io cercherò di provare, poi ovviamente se avete domande segnatevele tutte, quindi magari possiamo... Infatti c'è una frase molto famosa che si dice senza la liberazione della donna la società non può essere liberata. Ovviamente, come ho detto, la donna è vista come un'identità sociale, politica e comunitaria, non può essere vista solo a livello biologico. Quindi liberazione della donna in maniera estremamente totale, di quei valori che erano principali nelle società prima dell'avvento di un potere patriarcale. Infatti nella liberazione della donna c'è l'importanza di creare strutture autonome e non separate, ma autonome, significa che hanno ogni struttura della società, ma poi ne parleremo dopo, ogni struttura della società deve avere la sua parte autonoma delle donne, per il quale loro possono scegliere per le donne stesse. Non separata perché la società non c'è separazione tra genere maschile e genere femminile. Quindi comunque in tutta l'organizzazione del confederalismo democratico e derogiava in maniera anche pratica, ne parleremo, le due cose non sono in contrasto, non c'è una guerra tra le due cose, ma c'è la parte autonoma e la parte generale, nel quale comunque convivono e anzi si arricchiscono a vicenda. Quindi l'importanza di creare strutture autonome, istituzioni autonome, organizzazioni autonome, in ogni campo della società. E la creazione dell'ideologia della liberazione delle donne è stata una delle parti principali all'interno del PKK, ovviamente, che però potesse essere in contrasto all'ideologia patriarcale. Quindi non solo creare istituzioni, ma creare anche un pensiero, un'ideologia, che adesso spiegherò noi con termini ideologia, non intendiamo, facciamo differenza tra ideologia e idealismo. Ideologia è una cosa molto pratica, una cosa che deve prendere tutte le persone, che non può essere distaccata dalla realtà che le persone, che la società vive. Infatti, ora nominerò questi punti un attimino così, un po' veloce, però l'ideologia della liberazione delle donne è importante perché è la base del confederalismo democratico, è la base della pratica in Rojava. Quindi l'ideologia della liberazione della donna, innanzitutto, è un'ideologia sociale, quindi è connessa alla società in cui è presente. E ha cinque punti. Uno è il vela paresi, che non possiamo tradurlo con una parola perché diventerebbe patriotismo ed è orribile come parola in italiano, quindi la lasciamo in curdo. Velate vuol dire territorio, paresi vuol dire difesa, ma ovviamente il territorio non porta solo uno spazio geografico, ma porta anche cultura, identità, storia, tradizioni da difendere, eccetera, eccetera. Quindi difesa del territorio e della propria natura sociale. pensiero libero e libera volontà. Quindi cercare di creare un pensiero libero per poi agire libertà. E anche qua possiamo aprire tante parentesi, ma proprio per questo che è importante anche chiederci in questo momento che cos'è la libertà in realtà, no? Quindi quando parliamo di libertà cosa intendiamo, no? Libertà per chi, per cosa, come? Organizzazione, quindi è uno dei pilastri principali perché senza un'organizzazione che possa prendere tutte le persone appartenenti a un determinato territorio, a una determinata società, non è possibile creare democrazia. Una lotta, che sì è lotta esterna contro il nemico, che può essere lo Stato, la Turchia, l'Isis, patriarcato, quello che vogliamo, ma in realtà proprio perché lo Stato nelle analisi del movimento kurdo, iniziando da Hojalan, come ho detto, non è solo una struttura organizzativa pratica di istituzione, ma è anche un qualcosa che noi portiamo dentro perché è un'educazione statuale, è un'educazione. Noi siamo abituati a, ad esempio, delegare. Noi siamo abituati a non guardarci intorno, a cercare di dire, parlare delle diversità come minoranze, no? Ad esempio. Quindi una lotta che deve essere interiore, una lotta che deve essere interiore anche per creare, ad esempio, la liberazione della donna, quindi una lotta che sia nelle donne che negli uomini. Noi diciamo che il 98% della lotta è al nostro interno, in realtà, perché quando noi scardiniamo tutte le tossicità che ci arrivano da quello che ci influenza da fuori, quindi dallo Stato, dalla famiglia, dalla religione, dalle stesse tradizioni negative che abbiamo, allora a quel punto noi potremo fare la rivoluzione. Infatti, una delle frasi sempre molto esplicative della genealogie, ad esempio, è che la rivoluzione è il cambio radicale della mentalità, però per farlo serve una lotta interiore. E l'ultimo pilastro, l'ultimo punto, è etica ed estetica, quindi creare un'etica e creare la bellezza di quest'etica. Ovviamente il Rojave, in questo senso, posso parlare, ad esempio, delle istituzioni di arte e cultura, di come riescono a mettere la bellezza dell'etica, del confederalismo democratico all'interno di danze, all'interno di festival culturali, all'interno di vestiti, di tutto quello, no? E tu puoi vedere questa cosa, si può vedere quanta bellezza c'è in questa idea. Quindi questa è la liberazione della donna in maniera estremamente corta, come Cristiana sa bene che comunque è un pilastro che possiamo aprire, magari ci sarà anche possibilità di fare un altro incontro e sarebbe bello. Poi andiamo sulla democrazia partecipativa, che in realtà è quello che approfondiremo più oggi, quindi più la pratica, e i punti sono appunto la capacità in realtà naturale negli esseri umani di creare comunità, di organizzarsi. Quindi per noi, nel movimento kurdo, noi diciamo che in realtà l'essere umano è capace, per sua natura, a creare comunità, a auto-organizzarsi, solo che attraverso l'intervento di uno Stato, di un potere, che ha quasi 5.000 anni, se non di più, dipende dalle zone del mondo, noi abbiamo perso questa capacità di auto-organizzarci e quindi di creare comunità. Poi ci sono le assemblee, i consigli, ma ne parleremo dopo in maniera più precisa, quindi vado un po' più avanti. Le accademie e l'educazione, quindi uno degli aspetti più importanti della democrazia partecipativa, sono l'educazione attraverso le accademie della società. Non pensiamo a accademie come l'accademia degli studi di genere o l'accademia dello studio dell'ingegneria o ecologica, eccetera. Non è questa forma accademica, l'accademia si può fare ovunque, nel movimento kurdo, anche sotto un albero possiamo fare accademia. Anche questo momento formativo e di discussione è parte dell'accademia, è parte di educazione ed è ovviamente un'educazione orizzontale, dove sia la società che i compagni del movimento kurdo ne fanno parte, c'è chi dà e riceve e chi riceve ridà a chi dà prima. Quindi è sempre un circolo, un circolare ed è una delle parti principali del confederalismo democratico. La diversità viene vista come ricchezza e quindi non come minoranza. Anche nel movimento kurdo abbiamo molto, ci teniamo parecchio a dire le parole, cioè a sottolineare le diversità della parola, perché appunto diversità, quando tu vedi la diversità non la vedi come un qualcosa di negativo, come un qualcosa che può creare problemi, ma è una ricchezza. Mentre se si parla di minoranze incomincia invece, vuol dire che c'è una maggioranza e questo potrebbe creare problemi tra le popolazioni. E poi va bene, non frontiere, perché non ci sono frontiere, perché ovviamente, come ho detto prima, l'Uellaparesi è questo principio che dove abiti è il tuo territorio, quindi da dove arrivi te lo porti anche dietro, quindi tutta la tua cultura. Ad esempio, faccio un esempio, io in Rojava italiana, ovviamente io porto dentro tutto quello che è l'Italia, tutto quello che tra l'altro non è solo l'Italia, ma sono genovese, quindi dell'Appennino Ligure, quindi tutto quello che io ho imparato, io lo porto dietro e quello è il mio territorio, quello è il mio territorio e cerco di difenderlo, sia che sia in Rojava, che sia nel mio territorio fissa fisicamente. E poi c'è l'ecologia sociale, che ovviamente è, ovviamente non so se ovviamente, in realtà è molto complicato anche questo, però, che è ritrovare un'armonia tra esseri umani e natura, quindi di vedere come possiamo, e questo diciamo che è il pilastro un po' più complicato anche nella pratica del confederalismo democratico, perché ovviamente quando si parla di liberazione della donna, di democrazia partecipativa, noi come esseri umani possiamo essere attivi in questo cambiamento. Nell'ecologia sociale possiamo essere attivi, ma c'è anche la natura che parla, c'è anche tutto il disastro ecologico, che a volte per noi è complicato anche reggere, e in un territorio come il Rojava comunque c'è anche la guerra, quindi tutto questo viene anche distrutto in qualche modo e rigenerato in altre forme dalla questione della guerra, da attacchi costanti. Bene, adesso volevo giusto leggere una citazione che c'è da questo opuscolo, che trovate anche su internet. Democrazia partecipativa, questo tipo di governo o amministrazione può essere chiamato amministrazione politica non statuale o democrazia senza Stato. Gli Stati sono fondati sul potere, le democrazie sono fondate sul consenso collettivo. Il confederalismo democratico è aperto ad altri gruppi e ad altre fazioni politiche, è flessibile, multiculturale, antimonopolistico e orientato al consenso. L'ecologia e il femminismo sono i pilastri centrali. Il confederalismo propone un tipo di autogoverno politico, dove tutti i gruppi della società e tutte le identità culturali possono esprimersi in incontri a livello locale, convegni generali e consigli. L'idea di democrazia apre lo spazio politico a tutti gli strati della società e consente la formazione di gruppi politici diversi. In questo modo fa avanzare anche l'integrazione politica della società nel suo complesso. La politica diventa parte della vita di tutti i giorni. Io qua ho messo queste due foto perché mi piacciono sempre un sacco. Una è Ojalane che parla al suo popolo in montagna, quindi a forma di dialogo, e l'altra è Ojalane con i bambini, perché nel confederalismo democratico i bambini hanno un ruolo. In erogiavano le proprie assemblee, hanno le proprie autodecisioni e quindi queste foto sono molto significativi del personaggio di cui stiamo parlando, Ojalane. Bene, nella pratica come funziona? E qua andiamo un po' nella pratica, proviamoci. Prima di tutto appunto ho messo l'immagine dell'uva. Dell'uva perché? Perché come ci ha spiegato un compagno in Rojava, l'uva, il grappolo di uva è come se formasse la comina con tutte le sue, la comunità, quindi la prima base dell'organizzazione del confederalismo democratico, con tutte le sue diversità. Però come sono connesse queste? Sono connesse attraverso i ramicelli, no? Tutti questi rami sono l'ideologia. Cioè senza questo tipo di ideologia, senza quello di cui abbiamo parlato, quindi dei tre pilastri e potremmo andarci più a fondo, tutte queste grappoli d'uva non sarebbero connessi tra di loro, oltre che senza il ramo principale non vivrebbero, quindi morirebbero. Cioè la linfa vitale di tutto. E l'altro è un triangolo che tanti compagni in realtà mi hanno detto, ma perché l'hai messo così è brutto, no? Perché il triangolo dà il senso di gerarchia. E io mi ricordo che in questa appunto formazione con questo compagno, anche noi internazionalisti abbiamo detto, ma il triangolo è gerarchico, è brutto, perché non lo rovesciamo? E questo compagno ci ha detto, fai uno sforzo, fai uno sforzo a capire perché non lo vogliamo rovesciare. Perché appunto la parte più salda ed è la base, è la parte più forte che regge tutto quello sopra, è la comina, di cui parlerò subito dopo a questo. Per poi parlare del consiglio della città, del consiglio del cantone e dell'amministrazione autonoma, che è l'ultima parte, è la punta che permette che tutte queste cose, la comina, il consiglio della città, il consiglio del cantone, possano funzionare in maniera attiva e istituzionale. Ma senza la comina, quindi senza la parte più grande sotto, non c'è possibilità che esista il consiglio della città e quindi il consiglio del cantone e quindi l'amministrazione autonoma. Quindi questa è un po' la parte visibile, diciamo. Ora andiamo un po' più nel pratico, ecco, finalmente. Ecco, le comine, io continuo a chiamarle comine, possiamo forse parlare di comuni in maniera, in italiano, però a me piace utilizzare comine perché è un po' più diverso, diciamo che la funzione della comina non è proprio come un comune, come un municipio. Quindi le comine sono formate dai cinquanta ai cento nuclei familiari, poi vabbè se uno è da solo anche uno da solo, si intende nuclei familiari perché la società è organizzata molto di più a livello familiare, però una persona può essere una comina, quello che diciamo sempre, quindi non è questo il problema, diciamo. Però dai cinquanta ai cento nuclei familiari e sono principalmente nei villaggi o nei quartieri della città. Quindi immaginatevi un paese, ora io non so da dove venite voi, immagino da ovunque, però immaginate un paese che si forma, forma la sua comina e nella città o in quartiere forma la sua comina. Questo è il nucleo fondamentale appunto del confederalismo democratico, si auto-organizza attraverso assemblee e comitati. Cosa sono i comitati? I comitati sono l'effettività del lavoro, quindi è la parte più importante perché la comina fa assemblee, però cosa succede? Che per prendere decisioni, per analizzare le problematiche del villaggio, del quartiere, servono dei comitati che si creano attraverso le stesse persone che fanno parte della comina e lavorano su determinati temi. Ad esempio esistono comitati, i due che esistono sempre in tutte le comine sono sull'educazione, appunto perché il comitato dell'educazione è una delle basi di tutte le comine, quindi educazione come parte fondamentale e il comitato delle donne, quindi per mantenere l'autonomia delle donne. Queste sono tutte le comine, le ritroviamo in Rojava, ma gli altri comitati possono essere diversi in base alla necessità della comina stessa, quindi se in un villaggio molto rurale non ci sono ad esempio piccole industrie di fabbricazione di qualche cosa si parlerà di più del comitato per l'agricoltura, perché ovviamente la necessità della comina è quella di creare una giustizia, un lavoro insieme a livello dell'agricoltura e magari intende pure fare una cooperativa ad esempio, creare una cooperativa della comina, quindi del villaggio, del quartiere, in modo che ci sia sussistenza all'interno della comina stessa. Si autogovernano in questo senso, nel senso che non hanno bisogno di andare nei consigli della città per chiedere cosa fare, ma quello che possono farlo senza andare nel consiglio e della città di cui parlerò subito dopo, lo fanno, lo fanno, si auto-organizzano, cercano di risolvere delle problematiche tra le famiglie, quindi ci sarà pure il comitato della giustizia, il comitato dell'economia, eccetera, eccetera. E è su base diretta, di partecipazione diretta, quindi quello che succede è che le persone delle comine vanno alle assemblee e chi non va non è visto come quello che non vuole fare il confederale o non vuole scegliere, ma è la comina stessa, quindi le altre persone appartenenti alla comina che vanno nelle case di chi non va alle assemblee per riportare le decisioni, per riportare le problematiche, per dialogare, eccetera. In questo senso infatti vengono formati e vengono eletti due copresidenti, copresidenti vuol dire un uomo e una donna, sempre, quindi la partecipazione della copresidenza è sempre un uomo, 50% uomo e 50% donna. Questi copresidenti possono anche tornare, io ho conosciuto un copresidente di un quartiere di Camishlo che è da, poverino, da nove anni che è copresidente e quando io gli ho chiesto ma perché ci sei sempre tu? E lui ha detto perché non c'è nessun altro che si sta prendendo la responsabilità di farlo e quindi vogliono che io continui a farlo. Però in altre situazioni invece magari il copresidente dura un giorno, perché magari fa una cosa che è contro l'interesse della comina, quindi del villaggio, del quartiere in cui vive e quindi è la gente stessa che dice che tu non ci puoi stare qua, quindi vai e fai qualcos'altro. I copresidenti sono importanti anche nel ruolo di mantenere la relazione tra l'assemblea che avviene nelle comine e chi non va all'assemblea e quindi tutte quelle persone che in qualche modo per volontà, per, non so, stanchezza, per lavoro, per ideologicamente anche perché non è che tutti sono d'accordo con il movimento kurdo, ma in qualche modo sono d'accordo con questo tipo di organizzazione, quindi con il fatto di dire va bene, io faccio parte di questa comunità, quindi però sto a casa, non vado all'assemblea e allora i copresidenti vanno a casa e parlano, parlano, parlano e cercano di capire quali sono le problematiche eccetera. Poi ci sono i consigli della città, quindi si parte dal livello estremamente locale, che sono formati dai vari copresidenti scelti dalle comine e con il compito di riportare tutte le istanze uscite dall'assemblea delle comine. Quindi nell'assemblea delle comine cosa succede? E leggono i copresidenti, uomo e donna, bene, incominciano a dire, bene, qual è il problema principale? E tutte le persone dicono i propri problemi, il problema è che non c'è l'acqua, il problema è che quella famiglia c'ha il pozzo, quello che è successo ad esempio nel villaggio dove stavo io, quella famiglia c'ha il pozzo e non dà l'acqua a noi. E allora lì si crea un problema, perché ovviamente se sei comina dovresti risolvere tutto e magari si prova, si prova anche a risolvere nella comina stessa, ma a volte succede che magari l'acqua anche in quel pozzo è finita e quindi non c'è più acqua e quindi che si fa? Se la comina non riesce più ad avere l'acqua, allora i copresidenti vanno al consiglio della città e parlano della problematica dell'acqua, in modo che la città di riferimento, che possiamo dire come provincia per farvi capire, diciamo, la città di riferimento prende a carico attraverso i copresidenti di tutte le unità di comine dei villaggi e dei quartieri della città, prende questo problema e cerca una soluzione collettiva, perché magari un villaggio ha più acqua e quindi dice guardate ok voi non avete l'acqua, ve la diamo noi. E quindi c'è questa forma di risoluzione, quindi il consiglio della città è il modo sia per criticare certe cose che vengono vengono magari criticate di altre comine o non so, o dell'amministrazione anche generale, ma sia anche per risolvere, soprattutto per risolvere le problematiche della società, per capire qual è il bisogno di quella zona, per analizzare quali sono i bisogni principali, eccetera. Il consiglio della città è formato al 60% dei copresidenti scelti dalla comina, quindi il 60% sono copresidenti, quindi persone, quando parliamo di copresidenti parliamo di persone, non ci sono master in politica, non sono persone che hanno ambizioni, ma sono persone del popolo, del villaggio, del quartiere e al 40% da rappresentanti di associazioni, partiti politici, organizzazioni autonome. Bene, cosa intendiamo per associazioni, associazioni, vabbè associazioni, partiti politici perché? Perché nel frattempo nelle città, in Rojava ci sono circa 30 partiti politici diversi, tutti che aderiscono ovviamente al confederalismo democratico, quindi a questo metodo, quindi non vogliono prendere il potere, ma vogliono stare con le loro istanze da partito politico, in maniera organizzata da partito politico, vogliono stare all'interno dei processi decisionali, quindi cosa succede? Che il 40% sono associazioni, persone scelte da vari partiti politici e organizzazioni autonome, anche qui per organizzazioni autonome noi intendiamo sia le organizzazioni di donne, sia organizzazioni ad esempio di popolazioni diverse, quindi gli armeni, gli esidi, i ceceni, i siriani, gli arabi, eccetera. Quindi tutte queste organizzazioni autonome, perché si creano costantemente organizzazioni autonome, anche religiosi autonome, quindi perché ci sono pure i cristiani, ci sono appunto i musulmani, ci sono i zorotastriani, c'è tanta diversità e quindi tutte queste cose vengono dichiarate come organizzazioni autonome, perché si autogovernano secondo i loro principi etici, però sempre stando sotto l'ideologia, sotto l'ideologia del confederalismo democratico, quindi liberazione della donna, democrazia diretta e ecologia sociale. Cosa succede durante il consiglio della città è che si appunto discuterà, come ho detto prima, dalle istanze portate dai co-presidenti del villaggio e dalle varie associazioni, partiti politici e organizzazioni autonome. Si discute, sono assemblee, consigli e si cerca di mettere insieme tutte queste diversità per capire quale potrebbe essere la soluzione generale e per capire chi può trovare soluzione per magari una comina piuttosto che un'altra. Dopo questo c'è il consiglio del cantone, quindi si allarga, quindi dal basso arriva il consiglio della città, qua vedete c'è ad esempio, vabbè, questo è una mappa vecchia perché il cantone di Afrin adesso purtroppo non c'è più, c'è una parte sotto il cantone di Afrin perché è stato occupato dalla Turchia, però il cantone di Kobane esiste, cantone che possiamo chiamare regione per comprendere un po', no? Quindi Serecania anche non è stata occupata dalla Turchia, quindi c'è tutta questa parte che è anche stata perduta e poi c'è in realtà un cantone più grande, nuovo, che è tutto quello che fa parte di Raqqa, che qua non è segnato, di Raqqa, di Tabqa e di altre regioni, questa regione è prettamente araba, non è nemmeno più Kurdistan in realtà, quindi il Kurdistan in realtà finisce da Asseq e va su, va su fino ad Afrin, quindi sia all'epoca Raqqa non è più Kurdistan, territorio kurdo, ma il territorio già siriano e arabo, però nella lotta contro l'ISIS i compagni ovviamente non è che stanno lì a guardare la distruzione di ISIS ad altre popolazioni, quindi hanno liberato più territorio, hanno liberato Raqqa e quindi Raqqa anche adesso si autoamministra, hanno liberato dei quartieri di Aleppo e anche loro si autoamministrano secondo il confederalismo democratico, bene il consiglio del cantone quindi diventa più grande, quindi è formato da persone scelte nei consigli della città e che discutono appunto le necessità del cantone in generale, però sempre partendo dalle istanze che arrivano dalle comine, quindi non sono persone che non vivono il territorio, che vivono in una città e basta, ma sono persone che arrivano esattamente dalle comine e che riescono però a mettere insieme tutte le istanze delle comine e dei consigli della città in quella regione, in quel cantone, sempre per la stessa cosa perché questa è la formula magica, diciamo che appunto il 60% è formata dal co-presidente delle comine e il 40% dai partiti politici, associazioni, organizzazioni autonome presenti nella consiglia della città e si discuterà della necessità del cantone stesso e poi arriviamo all'amministrazione autonoma della Siria del Nord-Est che è esattamente Rojava, ora ovviamente all'inizio noi chiamavamo Rojava, continuiamo a chiamarlo Rojava, però in realtà Rojava è la parola kurda per dire Kurdistan dell'Ovest occidentale, quindi a un certo punto ovviamente quando si parla del Rojava si parla di due milioni di diversità, tra cui anche internazionalisti adesso perché ovviamente quando noi andiamo là portiamo le nostre istanze, quindi anche noi facciamo parte del confederalismo democratico, le istanze che per loro sono un po' da fuori di testa, però ci stiamo dentro in qualche modo e quindi si è cambiata, si parla di amministrazione autonoma della Siria del Nord-Est, quindi facendo appunto riferimento al territorio statuale della Siria. È formata da persone scelte nei consigli del cantone e discutono sulle stanze generali del Rojava, quindi generali, analizzando le situazioni locali. Sull'amministrazione autonoma diciamo che la cosa potrebbe diventare un po' più complicata perché appunto è la parte più effettiva, possiamo dire, più amministrativa del Rojava stesso. Quindi vabbè voi qua vedete tra l'altro c'è una foto con i vari copresidenti che sono di diversa etnia e qua c'è l'altra foto dove votano le istanze, quindi c'è proprio un momento di voto, però come vedete tutte queste persone fanno parte sia ovviamente sempre il 60% copresidente delle comine e 40% tutti gli altri. Tutte queste persone qua sono tutte parte della società comunque, non c'è nessun politico. Il partito kurdo, e questa è un'altra cosa molto importante da dire, il partito kurdo non è presente a queste cose. Il PKK pur essendo l'avanguardia ideologica di questa rivoluzione non ha il ruolo di stare all'interno delle decisioni dell'amministrazione autonoma e questo è perché quando tu chiedi ma perché no? Cioè non è un po' rischioso e poi andiamo a vedere infatti quali sono i rischi di questa cosa, quali sono le contraddizioni, loro ti rispondono no perché sennò diventa stalinismo in un secondo e quindi dici a vero, perché ovviamente si influenzano troppo alla società invece questa rivoluzione è una rivoluzione sociale, è una rivoluzione che arriva dalla società. Ma ovviamente il PKK, il PKK ha un ruolo ideologico nel Rojava, quindi educa le persone a questo sistema, a questo sistema, a ritrovare la propria autoorganizzazione, a ritrovare le proprie radici, a continuare a organizzarsi, quindi alla volontà di creare un'amministrazione che non sia statuale di potere ed è un grande lavoro, ma poi anche di questo parleremo perché appunto è molto complicato in realtà, sembra semplice detto così ma in realtà nella pratica è parecchio complicato. Ecco, questo io ho messo solo questa roba qui, poi vi do tutti anche dove potete trovarla questa cosa, perché per farvi capire anche un attimo come funziona l'amministrazione autonoma, che ovviamente all'interno dell'amministrazione autonoma c'ha dei consigli, sono più persone, perché nella comina sono un po' meno persone, poi aumentano, aumentano, sono più persone e quindi c'è il consiglio esecutivo, il consiglio generale, il consiglio della giustizia e poi ci sono le commissioni e gli uffici e in tutto questo a organizzazione sono sempre presenti 60% dei co-presidenti e 40% dei rappresentanti di associazioni, partiti politici ed organizzazioni autonome, 50% donne, 50% uomini e in tutto questo loro, ad esempio le commissioni che appunto sono quelle che poi lavorano sul territorio diciamo, come vedete sono amministrazioni locali, quindi sono tutti co-presidenti ad esempio delle comine. Finanze, economia, agricoltura, interni, interni che vuol dire tipo sicurezza, quindi è una zona di guerra, quindi c'è bisogno di un livello di sicurezza molto alta. Istruzione e apprendimento, quindi più scuola, perché poi le accademie invece sono ancora diverse, sono fatte dalle organizzazioni autonome, dalle associazioni e quindi è dalla società, dalla comina stessa che apre le accademie per la società. Commissione, istruzione e apprendimento significa più scuola, quindi scuola. Salute e ambiente, questioni sociali, questioni sociali anche qui è molto divertente perché uno dice questioni sociali che vuol dire, no? Vuol dire tutto quello che può fermare la società ad avanzare verso la rivoluzione, quindi avanzare in modo rivoluzionario a una pace comunque tra diversità. Cultura, donne e gioventù, sport. Non starò a spiegare tutte queste perché ovviamente ci sono anche forme amministrative, anche un po' burocratici a volte, no? Anche lì c'è molto divertente perché le persone, le comine si lamentano sempre di questa burocrazia, quindi per prendere il gas io devo andare in questo ufficio perché il gas, ci sono delle materie prime come il gas, il grano, l'acqua che è la comina che se la gestisce e in alcuni casi è il consiglio della città, quindi è la città stessa. Quindi cosa succede? Che le persone che finiscono il gas devono andare in città, andare dal… no, prima in comina, sì, ora mi ricordo perché l'ho fatto mille volte, prima di capirlo era un po' complicato. Prima nella comina e chiedere il foglio per dire noi siamo in cinque, ci serve il gas, ok? Vi diamo due bombole, ci fanno il foglio delle due bombole e andiamo nella città e andiamo in un altro ufficio che ci fa un'altra e ci fa pagare e poi andiamo dall'uomo del gas che era quasi sempre chiuso tra l'altro, quindi era proprio complicato anche perché ovviamente si cerca di non creare burocrazia, però nello stesso momento per avere un sistema che funzioni equalmente servono pezzi di carta, servono passaggi in modo da non che una famiglia ha di più e un'altra c'ha di meno, eccetera, eccetera. Quindi gli aspetti generali di questa… io l'ho fatta molto in generale, per adesso poi magari… perché ogni aspetto poi si potrebbe appunto declinare in altre forme e gli aspetti generali sono che appunto ogni consiglio e comina ha diritto di autoministrarsi attraverso i comitati, quindi ogni consiglio ha i suoi comitati, quindi il consiglio della città, il consiglio del cantone e la comina si autoministrano, quindi se non c'è bisogno di chiedere ad esempio per la comina al consiglio della città perché riescono a risolvere le cose da soli, bene non si chiede, però se il consiglio della città non c'è bisogno che chieda al consiglio del cantone di risolvere delle cose, non si chiede, è uguale per l'amministrazione autonoma. Ogni consiglio attraverso i co-presidenti delle comine e i rappresentanti delle associazioni, partiti politici e organizzazioni autonome, riporta la discussione e le decisioni nei consigli di cui fanno parte fino ad arrivare alle comine, quindi si parte da sotto, si arriva su 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 per poi ritornare giù 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 e si dice bene noi abbiamo fatto questo, cioè l'amministrazione autonoma ha deciso questo, quello, quell'altro, poi dopo vi farò anche vedere cosa succede se alle comine non va bene una decisione che viene presa. Fino ad arrivare alle comine, quindi c'è di nuovo la discussione, quindi c'è di nuovo, no? Se tutto va bene non c'è nessuna discussione, anche lì è molto chiaro e non c'è bisogno di discutere sempre. Appunto attraverso assemblee si può valutare il lavoro generale, criticarlo, proporre o sottolineare gli aspetti positivi. Anche il lavoro generale sia dell'amministrazione autonoma, sia di altre comine, sia del proprio comine, quindi si fanno dei propri report che i co-presidenti poi portano a tutti i livelli che abbiamo visto. In ogni consiglio, inoltre, ecco, questa è un'altra parte importante, nei report viene sempre, la prima parte dei report, e questo è anche nel movimento Curve così, è l'analisi geopolitica, locale e globale. Quindi attraverso le comine, quindi popolazione, gli si chiede cosa pensi adesso della situazione, e loro fanno l'analisi, un'analisi che per loro è quella della guerra, che è quella della situazione delle donne, dei bambini, dell'educazione, quindi fanno, e in questo modo le persone incominciano ad abituarsi alla politica, incominciano a essere politiche, senza, a volte anche senza educazioni di un certo tipo, ma nella pratica, no? Si chiede alle persone i pareri, costantemente. In ogni consiglio il 50% è di rappresentanza delle donne, per organizzazione autonoma intendiamo ogni gruppo di popoli diversi, appunto come ho detto, che in Occidente definiremo minoranze, ma che nel confederalismo democratico definiamo diversità, e i gruppi autonomi delle donne. Poi ci sono queste due strutture che sono fuori da tutto questo, che sono una la Tevdem, che è appunto il movimento per una società democratica, è un'organizzazione, un brello della società civile, quindi prende tutto quello che è società civile, non militare, quando parliamo di società civile non togliamo il militare, quindi tutte le istituzioni, le associazioni, i comitati, tutto, è il suo ombrello, cioè questa organizzazione generale è formata anche, il Tevdem è formato da co-presidenti, da donne, da partiti politici, eccetera, e hanno il compito di uno coordinare la voce della società civile, quindi ci sono appunto compagni e compagne, quando parlo di compagni e compagne non parlo sempre di movimento kurdo, ma sono persone della società che lavorano per questo, che si prendono il tempo, il loro lavoro è quello di andare nelle varie istituzioni sociali e chiedere come sta andando, come non sta andando, e ovviamente questo agisce anche come diciamo contropotere, contropotere all'amministrazione autonoma stessa, perché non è detto che l'amministrazione autonoma prenda delle decisioni giuste per la società, ad esempio, faccio un esempio, mentre ero lì a un certo punto c'è stato uno sciopero, infatti il Tevdem crea anche sindacati ad esempio all'interno della rivoluzione, c'è stato uno sciopero perché l'amministrazione autonoma attraverso pressioni esterne, attraverso tante cose ha alzato il prezzo del petrolio, ovviamente questo è un casino perché là non ci sono alberi da bruciare, non ci sono legne, non c'è nulla, quindi in inverno quello che ti permette di riscaldarti è il petrolio, ci sono le stufe a petrolio, quindi se tu aumenti il petrolio, oltre anche ad aumentare il pane perché il pane viene fatto con i forni a petrolio, quindi diventa tutto molto complicato, cosa è successo? Che il Tevdem ovviamente non loro da soli, però la società ha parlato, le varie istituzioni, organizzazioni, ha parlato col Tevdem e ha detto questa cosa non si può fare perché noi non abbiamo soldi, perché c'è freddo, perché non possiamo stare senza pane e allora hanno organizzato degli scioperi, degli scioperi che significava semplicemente lì non c'è il lavoro come lo immaginiamo noi, ma semplicemente stare in strada e dire voi dovete abbassare il petrolio, il prezzo del petrolio. Dopo due giorni hanno abbassato il prezzo del petrolio perché quella decisione probabilmente era stata non influenzata dal pensiero rivoluzionario del confederalismo e della società ma forse da forze ad esempio militari esterne, quindi di conseguenza perché questa è la democrazia difficile, perché tu cerchi di dare il potere al popolo effettivamente però il popolo è anche dentro a tutte quelle logiche di potere eccetera, però ci sono tutti dei restri di cose che poi vedremo. Poi c'è il Consiglio Democratico Siriano che è stato creato nel 2015 che è appunto l'ombrello politico e anche militare che fornisce una cornice politica per la risoluzione del conflitto siriano, quindi praticamente la parte diplomatica, ha la responsabilità diplomatica di lavorare sia con Assad, quindi a livello diplomatico ovviamente sia però di mettere in connessione tutte quelle diversità che tendono a scontrarsi un po' tipo gli esidi e gli arabi perché per cose storiche, per genocidi eccetera eccetera ci sono degli scontri e allora il CDS mette insieme tutte queste parti e cerca di fare un lavoro diplomatico. All'interno del CDS in realtà ci sono i partiti politici, i rappresentanti della società civile e l'amministrazione autonoma anche, quindi questi due sono anche questi due molto importanti nel ruolo di come sta andando diciamo la rivoluzione lì. Sistemi pratici di controllo sociale, ovviamente analizzando la realtà si sono resi conto che comunque effettivamente le persone non basta che dicano sì sì io sono rivoluzionario e diventano rivoluzionari, quindi ci sono anche dei sistemi molto pratici. Uno è il referendum che è la parte più importante perché ovviamente è molto difficile riuscire a portare tutte le persone che fanno parte delle comine, che fanno parte dei quartieri, che fanno parte delle città nelle assemblee, questo non è possibile, però ci sono delle cose di cui è estremamente importante parlare, allora si fa un referendum e tendenzialmente viene promosso dal Consiglio della città. Quindi prima ovviamente di creare un referendum e tutte le persone, i co-presidenti, i partiti politici, gli appartenenti del Consiglio della città vanno di casa in casa e dicono guarda che c'è questo referendum, è su questo, questo e questo, che dite? Venite a votare, è importante che anche voi venite a dirci la vostra. Poi c'è il veto, appunto che questo io ho messo una cattiva decisione, all'inizio ho pensato forse non è bello dire cattiva decisione, però in realtà poi riguardando gli appunti della mia formazione giù in Rojava c'era proprio scritto che il compagno ha sottolineato di dire cattiva decisione, quindi è una cosa che è contro la società, quindi il veto viene attuato appunto quando un consiglio, quindi della città o della regione, anche dell'amministrazione autonoma, prende una cattiva decisione che va contro la società stessa, quindi nelle comine proprio perché tutto viene riportato nella comina, nella comina magari si discute, si dice no questa cosa a noi non ci va bene eccetera eccetera e quindi si mette un veto e quindi il veto significa che blocca la decisione e si ricomincia la discussione su questa cosa, fino ad arrivare a un consenso che possa essere popolare. Parole, ad esempio nel veto basta anche solo che il 10% dei co-presidenti delle comine nei consigli che dice, solo il 10% che dice a noi non ci va bene, che comunque questa decisione viene rivista, riguardata, rianalizzata. Parola alle persone, ovviamente l'ho già detto, possibilità per ognuno e ognuna di portare ai consigli qualsiasi tipo di argomento e quindi di discussione, quindi faccio un esempio, sono stata un consiglio della città di Camislo e una delle, diciamo, della proposta di un signore, di un signore di un villaggio, copresidente ovviamente, era quella di eliminare le forze militari da Rojava perché questa persona estremamente pacifista non voleva più vedere forze militari nel Rojava. Ovviamente questa cosa non, cioè lui l'ha portata ed è venuta votata, cioè è venuta discussa nel consiglio, perché non perché, ma sei sicura, quindi tutte le persone che si rispondevano tra di loro e dicevano ma sei fuori, ma c'è la guerra, ma come si fa, autodifesa, non autodifesa, di qua, di là, per poi nella parte finale del consiglio alzare le manine e vedere quante persone votavano questo. Ovviamente non c'è stato nessuno che ha votato questo, però questa persona ha avuto la possibilità di discutere di qualcosa che è anche importante in realtà, ovviamente nella realtà dei fatti è un po' difficile non avere una forza di autodifesa militare in quella zona lì, però ci stava anche discutere di quella cosa, quindi le persone hanno discusso e poi è stata votata ed è stata scartata, semplice, più semplice del previsto. Poi richiamare indietro, ecco parola alle persone, richiamare indietro, diciamo che non ho avuto una, cioè letteralmente la parola kurda è questa, non saprei come metterlo in altro modo, però loro l'hanno detto esattamente così, cioè quindi parola alle persone e richiamare indietro. Richiamare indietro vuol dire che sono le comine e il popolo stesso che può decidere di richiamare un rappresentante dei consigli e dell'amministrazione autonoma, quindi se un compresidente, uno che fa parte dei consigli della città o del cantone o dell'amministrazione autonoma fa qualcosa che non va bene, la comina stessa e il popolo dice che non ci va bene questa cosa, ovviamente non vuol dire che non ci va bene e questo sparisce dalla faccia della terra, c'è una discussione, c'è un'assemblea, c'è comprendere la verità e poi può essere anche cacciato dal suo ruolo, ad esempio sempre mentre ero lì uno dei copresidenti dell'amministrazione autonoma è stato accusato di corruzione, accusato di corruzione, noi italiani figurati ogni tre per due c'è qualcuno arrestato per corruzione, quindi ed è successo che in realtà era qualche persona che accusava questo, bene cosa è successo? Subito richiamiamo indietro questa persona, parliamo con questa persona, cerchiamo di comprendere cosa è successo, parliamo con chi l'accusa e si è formata tipo una piattaforma popolare per il quale lui comunque ha dovuto dare spiegazioni di quello che faceva, ovviamente non le ha date perché era corrotto davvero con altri mafiosi del governo di Assad eccetera eccetera e quindi di conseguenza la piattaforma formata dalle persone presenti delle comine, della società, dei quartieri eccetera hanno deciso di cacciarlo via da quel ruolo, cacciarlo via non significa metterlo in prigione o però isolarlo dal suo ruolo e isolarlo a livello sociale, quindi tu sei, stai facendo qualcosa contro la società e questa cosa non va bene ed è stato cambiato. Bene arriviamo un po' verso la fine perché sennò qua parlo troppo, contraddizioni, vabbè difficoltà, questa parola serkeftin vuol dire vittorie, quindi ho messo in curdo, vabbè molto interessante perché in realtà sono come vedete una delle difficoltà e contraddizioni delle differenze e una vittoria a differenze che convivono, una è la mentalità e l'altro il cambio della mentalità nei giovani soprattutto e nelle donne, una è l'influenza esterna nella guerra e l'altra è la rivoluzione delle donne, quindi una costruzione reale, una è la democrazia e l'altra è la creazione di una società etico-politica. Ovviamente queste sono le due facce perché tutto questo è estremamente difficile, quindi la contraddizione nelle differenze è perché ci sono differenze che fino a 12 anni fa si uccidevano tra di loro, quindi comunque non è semplice riuscire a cambiare mentalità, riuscire a pensare che un esida può vivere con un musulmano dopo aver visto 73 genocidi da parte di Daesh, di Isis, però sta succedendo quindi comunque è una vittoria con tutte delle difficoltà, però sta succedendo. La mentalità, una mentalità molto connessa al feudalismo, al patriarcato e ovviamente crea problematiche nell'organizzazione, ma nello stesso tempo c'è un cambio radicale nella mentalità dei giovani e delle donne anche e per questo ci sono istituzioni e creazioni di autonomia delle donne. Le influenze esterne, quindi la guerra o il liberalismo o il capitalismo, però di risposta c'è la rivoluzione delle donne, una rivoluzione che è giusta, nel senso che mette tutti questi pezzetti insieme e nel quale l'autonomia delle donne dà forza alla società, non toglie niente alla società, ma dà forza alla società e cambia la società, cambia l'uomo, cambia i giovani, cambia il modo di stare in vita, cambia il modo di vedere la vita stessa. La democrazia, c'era un compagno sempre kurdo là che diceva sempre, l'unica cosa che diceva in inglese era la democrazia è molto difficile, perché appunto quando si parla di democrazia si parla di tutti questi processi di cui ho parlato che ovviamente sono complicati, sono complicati nel far comprendere alle persone, immaginiamo anche noi, comunque è complicato anche per noi perché siamo abituati a un'altra idea di organizzazione, di metodo organizzativo di democrazia e quindi di conseguenza creare democrazia, una democrazia così significa incontrare contraddizioni, incontrare difficoltà, sbagliare anche spesso, a volte si sbaglia, però nello stesso tempo appunto c'è la creazione di una società etico e politica, quindi dove l'eticità è la base delle relazioni sociali e politiche e la politica è la vita di tutti i giorni e su questo posso fare un piccolo esempio di un compagno che ho ricontrato, che ho conosciuto, derogiava lui, kurdo, un compagno, lui è un giornalista, non ha mai lavorato con le istituzioni dell'amministrazione autonoma, ma è cresciuto col confederalismo democratico. L'ho rincontrato qua, io sono in Spagna in questo momento, l'ho rincontrato perché è venuto e lui c'è il suo occhio era politico comunque, cioè lui è arrivato e mi ha detto ma perché c'è un movimento contro i turisti a favore dei migranti? Perché ovviamente diceva ma scusa i turisti non sono migranti e i migranti non sono turisti, oppure mi ha detto ma qua com'è la situazione delle donne, cioè il femminismo, noi abbiamo studiato nelle scuole del rojava che è esistito il femminismo, che in Catalogna c'è stato un femminismo molto forte, ma voi date lezioni nelle scuole del femminismo, della storia del femminismo? Io ho detto no, non funziona così, perché? Perché nella rivoluzione del rojava nelle scuole si insegna anche la storia del femminismo, la storia dell'anarchia, la storia del comunismo, la storia del socialismo quindi per lui, ecco lui per me è esattamente l'esempio della creazione di una società etico-politica, che dove va lui porta avanti questi principi comunque e gli sembra strano che in un posto come l'Europa dove è nato tante di quelle resistenze a questo sistema non parliamo di queste cose nella nostra scuola, ma perché ovviamente è appena arrivato e ha detto con calma capirai meglio questo sistema, probabilmente e capirai anche come autodifenderti perché è complicato da noi ancora di più. Qual è il ruolo della donna nel confederalismo democratico? Vabbè, prima di tutto la copresidenza, quindi come ho detto c'è sempre uomo e donna insieme, che però è anche un mezzo molto pratico di educazione, quindi gli uomini si sono abituati, gli uomini del Rojave si sono abituati a comunque non prendere decisioni da soli, a dover sempre avere una donna che poteva contestarli nel loro modo di prendere decisioni e quindi è un mezzo pratico di educazione nella società e l'autonomia delle donne, quindi creazione di istituzioni di solamente donne autonome nelle decisioni e quindi sulle questioni della donna sono le istituzioni delle donne che possono parlare, quindi si creano comitati di donne ma anche strutture, quindi se c'è la giustizia c'è la giustizia delle donne, educazione, educazione delle donne, economia, economia delle donne, difesa, difesa delle donne, tutti gli ambiti sociali c'è pure l'autonomia delle donne, che però comunque continua a coordinarsi con la parte generale, non è che è distaccata, perché fanno parte poi dei consigli insieme e quindi a volte c'è un po' un gioco di forza, perché ovviamente gli uomini non si liberano così facilmente, però anche con questo gioco di forza che non è violento in realtà, ma è una costanza, una educazione costante, un modo di stare, di vivere, di vedere, di avere una pazienza amicidiale e quindi di cambiare e questo aiuta alla creazione, cioè aiuta, è la rivoluzione, se vi devo dire proprio la verità, nella pratica di questo confederalismo democratico, senza l'autonomia delle donne ci sarebbe molta più difficoltà, perché se la donna si libera, si libera la società, ed è evidente in Rojava che le donne sono più libere, o comunque non tutte ovviamente, anche questa è una contraddizione, non si può raggiungere tutto, si cerca, ma alla fine ha solo 12 anni questa esperienza rivoluzionaria, ma ha fatto dei passi estremamente enormi e continua a cambiare, continua. Qua ci sono un po' di foto, di vari consigli sole di donne, questo ad esempio è un partito siriano, commissioni sulla salute, manifestazioni, queste sono le giovani donne, queste sono donne eside. Quindi per riassumere, come è possibile tutto questo, prima cosa è l'ideologia, come ho detto il rametto dell'uva e l'avanguardia delle donne, quindi la liberazione della donna, educazione e accademie, di cui ho parlato già un po', però magari possiamo parlarne ancora, un cambiamento costante, questo è importante, cioè la rivoluzione è un cambiamento costante, ogni necessità si cambia, quindi ad esempio già la formazione di questo confederalismo democratico, ci sono delle cose nuove ad esempio, quindi se prima c'erano le comine, villaggi, quartieri e poi la città, adesso ci sono pure distretti nella città, perché si sono resi conto che il quartiere è comunque troppo grande e quindi si parla di distretto, si parla di eccetera eccetera, quindi un cambiamento costante in base alle necessità della società e tenendo in mente l'ideologia e poi soprattutto, sarà un po' romantica però questa è evidente, politica dell'amore non dell'odio, quindi cercare di amare quello che c'è davanti, la vita, amare le differenze, piuttosto che trovare sempre il cavillo per litigare e fare la guerra, ecco. Ok, basta. Scusate, ho parlato tantissimo ma è un po' complicato. Va bene, su questo messaggio importante e costruttivo ovviamente adesso lasciamo la parola a voi, soprattutto immagino a domande, quesiti, prima fra tutti si era appunto scritto in chat Walter a cui chiederei comunque di riproporre la domanda più che altro perché può essere utile a chiarire alcune parti che Caterina ha rapidamente per questioni di tempo dovuto sintetizzare e che sicuramente raccontandoci un sistema che è molto distante da noi e soprattutto io questa è una precisazione che ci tengo a fare adesso che passo la parola diciamo alle domande, allo scambio tra di noi, invitandovi ovviamente alla brevità e a provare a sfruttare questo momento come occasione per appunto saperne di più. Quello che non dobbiamo assolutamente fare e che invece purtroppo spesso è capitato è pensare che il confederalismo democratico, così come diciamo ci ha raccontato l'esperienza del Rojava in questo momento Caterina, poi ci sono tutta una serie di evoluzioni di questa ideologia, di questo pensiero che hanno raggiunto anche e raggiungono anche noi ma che si possa semplificare tutto questo facendo dei paragoni e delle similitudini con quello che noi conosciamo, con il nostro linguaggio, con la nostra esperienza, con la nostra cultura occidentale. Ecco l'invito un po' è anche quello a mettersi in un'ottica di comprensione di una società molto differente che prova a sperimentare un'ideologia politica e una costruzione di società che tiene insieme tantissime culture e tantissime differenze, questo l'ha già detto Caterina, che però non può, come dire, nella nostra riflessione non può essere banalizzato o compreso facendo dei raffronti con quelle che sono le nostre esperienze o pensando di poter fare un copia e incolla e quindi immaginarci un raffronto con quello che noi viviamo. Qui in questa società si sperimentano delle pratiche che derivano dalle nostre culture, dalle nostre origini, dalla nostra capacità di messa in discussione del sistema che conosciamo, lì c'è tutta un'altra storia. Da quella storia la potenza del movimento kurdo è stata la capacità di cominciare a riflettere in una rivoluzione giovanissima, l'ha detto bene adesso Caterina alla fine, sono pochissimi anni se ci pensiamo che il confederalismo in una zona di guerra, in una zona di attacchi continui, di violenza, dove c'è stata la tragedia di ISIS, una tragedia che l'Occidente ha deciso di dimenticare, isolare e scaricare sui kurdi, ma che non è risolta non è finita, ma insomma sarebbe veramente argomento di altre ore di discussione, di mettere a disposizione questa esperienza e di metterla a confronto con tutti gli altri movimenti, rivoluzionari e non, con tutti gli altri la società organizzata nel resto d'Europa e del mondo, di metterla a confronto costruendo un'utopia concreta, uno sguardo, un orizzonte che può essere prospettiva anche per tutte noi che è quella della costruzione di un confederalismo mondiale, delle donne e non solo, ma un confederalismo c'è una pratica di confronto, di messa appunto in discussione di avanzamento del pensiero che possa anche coinvolgere che le nostre differenze, le nostre ricchezze, la nostra etica, il nostro modello culturale che rompe con il sistema capitalista dello Stato e del patriarcato. Quindi questo per dire, insomma partiamo da qui per farci, per scambiare queste domande e richiederei a Walter di riproporre la sua in modo tale che possiamo chiarire il funzionamento che ci ha raccontato, accennato velocemente Caterina. Sì, buonasera e innanzitutto ringrazio della presentazione, molto interessante e poi avevo sì, due domande. Allora una domanda è quel 40% dei rappresentanti di associazioni, partiti e organizzazioni autonome, da chi e come sono scelti nel Consiglio delle Città e nei cantoni? Partecipano tutti i co-presidenti delle comine in quel 60% o una parte eletta dalle stesse comine? Volevo capire questi aspetti, grazie. Certo, allora sì, quello del 40% vengono eletti, scelti, ognuno poi fa un po' anche nel modo che più vi rappresenta dalle organizzazioni, dalle associazioni e dai partiti stessi, quindi comunque in maniera autonoma le organizzazioni autonome, le associazioni e i partiti politici presenti in quella zona, appunto scelgono i propri co-presidenti, o possiamo, a volte li chiamano anche solo referenti, portavoce, no? Però comunque sempre secondo il confederalismo democratico, quindi un uomo e una donna, questo deve essere, sì, questo deve essere. Invece la seconda che mi hai detto, aspetta che la sto leggendo anche sul, così me la ricordo, scusate, e partecipano tutti i co-presidenti delle comine in quel 61 parte eletta dalle stesse comine. No, sono tutti il 60% dei co-presidenti delle comine. Capito? Sì, ma no, intendevo se tutti i co-presidenti delle comine partecipano tutti ai consigli e nelle città o a dei cantoni. No, 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 tra i co-presidenti poi si scelgono altri co-presidenti, quindi altri co-presidenti, più o meno il numero è 21, se vuoi sapere proprio il numero. Non ho detto tutti questi numeri perché sono un po' fastidiosi, però poi nel consiglio della città sono 21 più o meno e poi nel consiglio del cantone invece sono un po' di più nell'amministrazione, però no, sono tra co-presidenti che si scelgono, però comunque tutto quello che viene fatto nei consigli viene riportato alla comina stessa. Quindi un'altra parte molto interessante di questo procedimento è la liberazione del tempo, quindi non è il tempo che noi immaginiamo produttivo, dobbiamo fare 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 fare, ma in realtà è piuttosto cosa facciamo, come lo facciamo che è meglio, anche poco ma di qualità diciamo. Quindi a volte succede che magari un co-presidente deciso dagli altri co-presidenti non va bene a qualche d'uno perché non lo so, si discute, si capisce, eccetera, eccetera e si può anche cambiare. Grazie Caterina, grazie Walter, passerei la parola ad Antonio che ha una domanda, ti vuole chiedere di commentare alcune questioni, ovviamente l'invito Antonio è che molti di noi non erano presenti a questa assemblea di cui tu fai riferimento, forse neanche Caterina stessa, quindi diventa difficile commentare, ma insomma se è utile a questo momento di formazione e confronto, assolutamente, ecco ti passo la parola. Ma io penso che sia utile, mi sentite? Sì. Sì, sia utile perché c'è stata questa assemblea nazionale di rete kurdista italiana a Bologna il 9 novembre, quindi due settimane fa e soprattutto erano presenti dei rappresentanti kurdi di un livello importante per il coordinamento che c'è, nel senso che ci sono i kurdi indivisi nei quattro stati con la matitina, ma poi ci sono i kurdi in esilio, per esempio in Germania ce ne sono 850 mila e esiste un'organizzazione che è il KNK che coordina un po' anche tutte le attività che in Europa si possono fare per confrontarsi e aiutare la lotta dei kurdi, del confederalismo democratico come modello che supera sicuramente tutti i nazionalismi. Ora il problema, quando è intervenuto a Bologna un compagno molto molto qualificato del KNK che si chiama Ahmed Boum e lui ha spiegato proprio che i problemi europei e i problemi kurdi sono più o meno gli stessi, cioè il problema è quello che chiamano la modernità capitalista che è, allora a questo punto, queste cose nel librettino che ha citato Caterina, il confederalismo democratico che ci sono anche librettini molto piccoli su cui formarsi per aiutarci perché esiste una perché i kurdi stanno a Italia, con sede a Roma, adesso ne apriranno un'altra a Milano dove c'è una rete, quindi lo invito tutti i compagni che stanno partecipando a collegarsi perché il Chiapas è piccolo e sono tutti indigeni, il Rojava e il Kurdistan sono un'esperienza di mettere insieme delle persone diverse sotto le bombe, non dico che è meglio, sono molto affini eccetera, però è effettivamente un'esperienza che a noi che ci siamo stati nel 2015 ci ha entusiasmato per questa capacità di prospettiva rispetto al degrado dei vari nazionalismi. Ora, il problema però oggi è le alleanze evidentemente perché loro sono sotto le bombe i siriani evidentemente, Assad non è un nuovo amico, come ha citato la questione del petrolio che non ce l'hanno e ce l'hanno in mano gli americani nella Kurdistan più o meno eccetera, controllano i pozzi Allora, in questa assemblea molto importante che c'è stata, io ho fatto una domanda come vedono i compagni kurdi e la questione dei BRICS? La questione dei BRICS sarebbe gli antagonisti degli Stati Uniti, insomma però ultimamente ci sono entrati dentro Arabia Saudita, Egitto, delle dittature feroci eccetera e mi è piaciuto, vorrei dirlo e chiedere a Caterina cosa ne pensa di questa affermazione che cosa ha detto il compagno Aved, perché il compagno Aved ha detto noi supportiamo, non supportiamo, ne vediamo differenze tra i BRICS, il G20 e il G7 è una lotta tra gruppi e gemoni per avere maggior potere su noi e sul nostro lavoro i BRICS sono stati nazioni che vogliono controllare le risorse energetiche in competizione con gli Stati Uniti è una competizione tra stati, questa loro competizione può essere utile per la nostra casa tra loro e gli Stati Uniti, ma per noi è solo una questione tattica non possono essere antiimperialisti perché essi stessi sono tutti imperialisti questa affermazione così forte io credo che mi sono permesso di raccontarvela perché eravamo presenti, perché al di là di come ha raccontato la struttura e l'organizzazione veramente nuova, c'è oggi una lotta politica in cui personalmente io sono stato appassionato da una novità assoluta dell'esperienza del Rojava e di tutti i curvi anche in giro per l'Europa che continuano a cercare di sostenere perché la situazione è estremamente difficile dal punto di vista militare quindi volevo chiedere un parere di Caterina su questo, che non è una domanda però mi pareva importante che dicessi qualcosa Ciao, grazie per aver riassunto quello che è successo alla rete Kurdistan la mia posizione è quella del compagno, nel senso che la situazione non è il fatto appunto di prendere parte con forze egemoniche ma pensare alle popolazioni, alla società, a chi muore poi rispetto appunto a questa guerra che c'è tra forze egemoniche che rappresentano comunque nemici per la società tant'è che infatti noi parliamo di sociatecidio, dimmi perché io ogni tanto sono un po' dislessica magari mi è venuto male da dire, cioè il genocidio della società quindi in realtà le parole del compagno sono esattamente quello che tutti noi del movimento pensiamo attraverso analisi sociali, politiche e locali che ovviamente vanno analizzate più profondamente compreso quello della comprensione reale di che cose sono gli stati effettivamente di che cos'è l'imperialismo e quindi che non possiamo solo semplificare il mondo con americani e non americani e quindi prendiamo parte come in un gioco di calcio dove in mezzo però ci sono popolazioni che vengono sterminate tutti i giorni, genocidi davanti ai nostri occhi e quindi di conseguenza le nostre posizioni non sono mai con i poteri quindi anche se alcuni possono sembrare più vicini alla nostra posizione ma comunque la forma in cui loro si formano appunto la base su cui loro si formano è egemonica e di potere quindi sì, questo è quello che vorrei dire Allora, adesso passerei la parola a Stefano che ovviamente pone un altro interrogativo interessante ma che ci aiuta magari a fare da ponte anche con quello che accennavo prima cioè a rompere quelle categorie di pensiero alle quali siamo abituati, nelle quali siamo cresciute e ci dà forse il peso, il polso anche di che cosa vuol dire, di che cosa parliamo è un altro argomento diciamo complesso da sintetizzare quando diciamo che nel 2005 Ocalan porta le sue riflessioni, portano al cambio del paradigma e quindi come dire, una innovazione del pensiero, una messa in discussione del pensiero marxista che fino a quel momento aveva in qualche modo guidato la storia del PKK e appunto porta a configurare questa nuova ideologia e tutto quello che rappresenta e quindi lascio la parola a Stefano, così poi la domanda anche a Caterina Stefano ci sei? Non so non ci risponde più Caterina potete leggere la domanda intanto, allora intanto facciamo così passiamo alla domanda di Leonello sui referendum Leonello se tu ci sei e vuoi intervenire in modo tale che continuiamo a stare sulla pratica e poi ripassiamo la palla a Stefano se riesce a intervenire Leonello se posso intervenire intervengo bravissimamente grazie mille per la bella esposizione molto dettagliata e molto interessante io vi parlo dalla Svizzera dove ci sono anche dei cantoni mi ha fatto molto piacere soprattutto scoprire una cosa che non sapevo cioè il municipalismo avevo letto e trovo che sia molto interessante questo meccanismo diciamo di un po' elettorale cioè nel senso che si mandano ai livelli di decisione superiori persone che si conoscono a livello di decisione inferiore e questo è una cosa molto interessante e trovo molto importante ma che concerna un po' il sistema di democrazia rappresentativa invece da quello che è stato detto se ho sentito bene ci sono anche strumenti di democrazia diretta come il referendum il veto e anche quello che viene è stato tradotto come richiamo indietro che spesso parlando in inglesorum in Italia viene chiamato recol che vorrebbe dire la revoca l'istituto sono strumenti tipici della democrazia diretta molti dei quali li conosco perché sono qui in Svizzera e sono curioso di sapere con quali meccanismi se possibile perché il discorso sarebbe complicatissimo ma un'estrema sintesi grazie come per esempio come si possa indire un referendum o un veto che credo sia un referendum approvativo o lanciare un'iniziativa grazie comunque moltissimo per l'esposizione che ho trovato molto molto interessante grazie grazie poi mi imbarazzo anche allora se ti rispondo subito a questa domanda allora queste procedure vengono indette esattamente dal TEVDEM quindi da quella istituzione rimetto la slide la rimetto no va bene quella quella l'istituzione diciamo quel gruppo ombrello che prende tutta la società civile quindi tutte le organizzazioni le comine i partiti politici eccetera eccetera loro indicano loro indicano il referendum attraverso le comine quindi attraverso prima il capire com'è la ad esempio il referendum ma poi possono essere anche altre altre cose quindi attraverso le assemblee delle comine si discute delle problematiche di questo di quell'altro ovviamente all'interno delle comine ci sono rappresentanti del TEVDEM quindi dell'organizzazione ombrello che poi attraverso tutti gli altri ogni organizzazione ogni partito politico ogni associazione si organizza secondo questo tipo di organizzazione quindi assemblea comitati decisioni copresidenti eccetera eccetera quindi questo vengono indetti a un certo punto nel TEVDEM quando si vedrà che la situazione non è un problema di una comina perché poi c'è pure quello no magari è un problema di una comina e quindi si può risolvere nella comina stessa però quando invece il problema diventa più generale e quindi diverse comine diverse partiti politici diverse associazioni diverse organizzazioni autonome si lamentano della stessa cosa allora lì in base ovviamente al livello ad esempio si fa il richiamo indietro il veto e il referendum è uguale quindi quando c'è una situazione un po' più grande diciamo da decidere che può ad esempio essere il prezzo del grano il prezzo del grano che il prezzo del grano può essere troppo alto e quindi per capire se abbassarlo o no bisogna capire per tutta la popolazione non basta solo quelli che partecipano in maniera attiva che sono tanti però non sono tutti quindi di conseguenza si va piano piano nelle comine nelle case delle persone questo è il processo rivoluzionario ci sono compagni e compagne società civile che fanno questo cioè vanno nelle case delle persone ascoltano e comprendono il livello e ovviamente poi si crea il referendum il referendum nel quale ovviamente il Tevdem raccoglie tutte le proposte bisogna abbassare il grano di tanto così bisogna rialzarlo bisogna lasciarlo così perché poi è un problema non è così semplice ogni volta trovare la linea giusta ideologica pratica economica cioè un po' complicato però poi attraverso questo si fa il referendum e quindi si decide però si diciamo che passa tutto attraverso attraverso la comina quindi comunque alla prima base essenziale con un lavoro un lavoro quotidiano di persone che fanno questo quindi non so se ti ho risposto bene hai risposto ci fa segno di sì grazie e comunque scusa volevo solo dire una cosa Leonello che in Svizzera ora tu sarai nel cantone del Ticino immagino ci sono delle comele si chiamano comele kurde che sono i luoghi dove la comunità kurda si auto-organizza secondo il confederalismo democratico quindi non solo per sostenere la liberazione nazionale io sono nel cantone di Nociatello vicino alla Francia eh vabbè anche lì ci sono sono ovunque quindi se ti capita vagli a cercare sono strumenti che conosco perché ho vissuti anche perché mi hanno eletto nel Consiglio Comunale e quindi ho visto l'effetto sui consiglieri degli strumenti della democrazia diretta che sono molto positivi perché inducono i consiglieri a lavorare con molta maggiore attenzione questo è molto molto importante allora veramente ti esorto ad andare a trovare la comela la comunità kurda l'associazione culturale lì presente perché loro lavorano secondo questi principi quindi all'interno di uno stato che non è loro quindi che in un territorio non liberato diciamo come il Rojava loro comunque si auto-organizzano come col confederalismo democratico quindi sono tutte queste cose e magari riesce a vedere la pratica esatto infatti qui ci sono diversi emigrati kurdi e sto come associazione degli emigrati italiani cercando di organizzare un incontro perché loro propagandino il loro metodo democratico però se sono un po' preparato prima è meglio grazie quindi per le informazioni che gli hai dato la mia domanda è molto semplice secondo la tua esperienza il modello sta funzionando cioè quali rischi vedi di tra virgolette burocratizzazione professionalizzazione perché poi non tutti avranno sempre il tempo e le motivazioni per stare dentro tutti i percorsi partecipativi insomma un po' un giudizio tuo quali sono le cose sta funzionando e quali difficoltà vedi o intravedi insomma allora sì secondo me sta funzionando nel senso che appunto a livello ideologico quindi di cambio di mentalità è evidente che c'è un cambiamento radicalissimo in quella zona in tutte le soggettività che ne fanno parte quindi non solo nelle donne in primis nelle donne però anche gli uomini stanno cioè si sta cambiando tanto nelle relazioni sociali nella comunità eccetera a livello organizzativo anche perché ovviamente se cambia la persona cambia pure l'organizzazione però ovviamente ci sono dei rischi dei rischi che spesso sono in realtà rischi molto più grandi nel senso che arrivano da cose molto più grandi del territorio piccolo del Rojava uno sicuramente la guerra quindi come loro costruiscono questi distruggono cioè l'ultimo bombardamento che c'è stato che è stato un mese fa hanno bombardato circa 180 volte il Rojava distruggendo le infrastrutture del Rojava fra cui delle cose che avevano appena costruito per la società che servivano alla società stessa quindi sia stazioni elettriche per aumentare l'elettricità sia posti di petrolio sia ospedali nuovi costruiti cliniche per la società quindi comunque c'è un attacco costante della Turchia che ovviamente non fa un genocidio diciamo enorme ma lo sta facendo in maniera estremamente goccia dopo goccia giorno dopo giorno uccidendo tra l'altro anche tante compagne tante donne che hanno fatto parte che stanno facendo parte dell'amministrazione autonoma cioè sono le prime che vengono uccise in Rojava con i droni quindi anche la forma dell'avanguardia che poi è un'avanguardia sociale non è strettamente politica viene comunque annientata non solo dall'uccisione fisica ma anche dal dolore nel senso che comunque le persone stanno perdendo cioè ogni famiglia lì ha un morto almeno un morto un martire e poteva essere dentro le istituzioni come no a loro non gliene frega niente l'importante è portare lo sfiancamento delle persone e ovviamente questo però è anche quello che fa resistere quel luogo quindi ovviamente tutta la parte dell'autodifesa esiste perché la gente sa perché cosa sta combattendo sa perché cosa sta vivendo e quindi si riesce ad autodifendersi altrimenti se tu non pensi a niente se tu non ci credi alla fine cosa fai quindi riescono a resistere il secondo esercito più grande della Nato nello stesso tempo ci sono altre diverse guerre speciali noi le chiamiamo guerre speciali che una è psicologica sicuramente che la Turchia fa c'è la guerra economica quindi attraverso comunque il Bashur e quindi la parte del kurdista indracheno Barzani che è un kurdo un presidente kurdo ma è alleato con la Turchia ogni tot chiude il confine e chiudendo il confine significa che non entra niente il Rojava quindi ci sono settimane intere dove non ci sono medicinali settimane intere dove non si riesce ad avere delle cose che non riescono ad autoprodursi la guerra ecologica che arriva sempre dalla Turchia ha chiuso tutti i fiumi che arrivano nel territorio del Rojava ovviamente quella è la Mesopotamia la famosa mezza luna fertile del quale noi studiamo tutti estremamente ricca ma prima il governo d'Assad ci ha fatto coltivazione intensiva di grano quindi ha distrutto tutto quello che c'era e dopo il governo turco ha deciso bene di non fare arrivare più acqua in quel territorio quindi è un deserto quindi loro cercano di autoprodursi il grano ma il grano gli arriva a poco perché non piove non si riesce a piovere quindi cioè è complicato quindi ci sono diverse situazioni che ovviamente cambiano cambiano questa cosa e ovviamente cambiano anche la mentalità delle persone perché chissà il grande problema il grande diciamo pericolo dell'amministrazione autonoma è comunque che comunque sono persone della società e quindi da un lato è meraviglioso perché ovviamente ci sono tutti dei sistemi di autocontrollo di controllo eccetera però dall'altro ovviamente sono persone che potrebbero essere influenzate da diverse cose quindi magari dicono però forse fare questo con questo stato non è così male se possiamo vivere perché ovviamente c'è tutta questa guerra speciale nel quale il governo siriano ogni top promette delle cose che però non succedono la Turchia che dice se voi cacciate via tutti quelli del PKK noi vi lasciamo in pace ovviamente questa è una guerra speciale però per il quale le persone là perché da 12 anni che stanno dentro a un processo di liberazione collettiva riescono a mantenere quello che è più diciamo da noi che stiamo da un'altra parte del mondo è quella di non sostenere più questa rivoluzione nel senso che questa rivoluzione è la pratica cioè veramente pratica si vede si vede le contraddizioni le difficoltà però si vede anche la vittoria e quando si sta lì si sente non è che lo vedi solo razionalmente ma lo senti lo senti lo vivi vivi come loro vivi queste contraddizioni e si capisce un po' un po' di più però quello che succede è che noi abbiamo dimenticato molto facilmente questa rivoluzione e questo significa che ovviamente il confederalismo democratico non sta solo in il Rojava il Rojava è l'esempio pratico massiccio di un territorio liberato nel quale si può provare a creare cose se non ci fosse la guerra però quella è l'altra parte della guerra però il confederalismo democratico resiste esiste perché si espande perché è una proposta che può andare bene anche nei nostri territori nel mondo nelle varie diversità e ovviamente non magari in questa forma perché ovviamente non è che si può fare copia e incolla sarebbe sarebbe da fuori di testa ma però riesce a sopravvivere per questo però sicuramente pensare di veramente espandere questo pensiero e soprattutto ricordarci che c'è un luogo nel mondo dove la rivoluzione è possibile e questo a parte che ti fa almeno personalmente quando penso a Rojava dico ah vabbè sorrido sorrido perché dico che bello io ho avuto la fortuna di viverci due anni e adesso ho voglia di vivere capito voglia di vivere voglia di fare voglia di andare voglia di parlare voglia di organizzare e se morirò 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 felice che te devo dire però comunque è una speranza che è importante quindi e quindi anche da parte nostra ovviamente più c'è l'occhio centrato no proteste presidi educazioni tutto su questo più loro è un sistema di autodifesa più loro non riescono a demolire questa realtà quindi ci sono diverse problematiche però comunque funziona cioè sta funzionando effettivamente cambiando zoppicando un po' ma funziona via grazie prego bene grazie io per ora non ho visto comparire altre domande quindi non so se c'era ancora qualcuno che in corner siamo andate molto lunghe ma era importante è stato interessante è stato speriamo utile insomma per chi sta seguendo questo corso a fare questo approfondimento non so se c'è qualcuno che in corner voleva fare una domanda appunto delle aveva necessità di chiarimento ovviamente poi insomma rimaniamo a disposizione tramite Marco tramite attac anche per continuare discorsi che appunto non è facile sintetizzare così così brevemente io ci tengo a lasciarvi diciamo a chiudere in modo tale anche da fare da ponte con quelli che saranno gli ultimi due incontri con un po' alcuni insomma di parole d'ordine che rimangono a disposizione di chi c'era oggi di chi vorrà approfondire insomma sulle quali continuare a interrogarci insieme con un movimento che appunto ha avuto la capacità di ragionare e riportare soprattutto concretamente anche nelle strutture organizzate in tutta Europa in tutto il mondo quindi nella diaspora e poi di metterlo a disposizione dei movimenti tutti queste forme dell'organizzazione per dirlo un po' diciamo con termini a noi con una terminologia a noi nota e quindi con le quali è interessantissimo insomma confrontarsi e sperimentarsi che sono un po' il tema del tempo rispetto alla produttività capitalista che sono un po' il concetto di territorio di quella paresi e quindi di amore per il territorio dal quale partire qualsiasi territorio esso sia a partire dal corpo delle donne come prima colonia fino ad arrivare al territorio circostante dove la tua famiglia la tua comunità può unirsi e recuperare il termine politica che non è più delega ma è appunto partecipazione attivazione diretta e l'organizzazione e quindi che non è da confondere con la burocrazia con l'impostazione dello Stato che ti controlla ma con la necessità di dotarti di istituzioni del comune di forme appunto e di strutture organizzate affinché no quella partecipazione poi diventi anche azione pratica il sentirsi parte della società il non guardare la società come qualcosa da cui noi movimenti siamo qualcosa di astratto qualcosa di distante qualcosa che anzi è in critica con la società ma siamo parte di questa società e quindi dobbiamo fare uno sforzo di linguaggio di coinvolgimento di partecipazione di formazione educazione e condivisione che ci avvicini di più a tutto questo e la consapevolezza che attraverso la formazione l'educazione la critica la pratica della critica dell'autocritica quindi della messa in discussione la possibilità di richiamare chi sta in qualche modo tradendo un po' il mandato della discussione collettiva rende questo appunto non un'ideologia fissa impostata e quindi che blocca che chiede un'adesione dura e pura a quello che si sta facendo ma un processo un processo un processo giovanissimo che si sviluppa parte da un'esperienza come quella del Kurdistan una storia lunga migliaia di anni ma che appunto negli ultimi 40 si è organizzata e strutturata ma che poi si mette a disposizione come risoluzione possibile alternativa di altri anche di tutta un'altra serie di problematiche di limiti che hanno a che vedere con la nostra società e quindi insomma io ci tenevo a fare questo ponte con quelli che saranno i prossimi incontri e vi ringraziamo ancora per averci coinvolto insomma per averci dato questa opportunità bene grazie Cristiana grazie Caterina noi ci rivediamo fra due lunedì naturalmente nei prossimi giorni sarà disponibile la videoregistrazione di questo incontro per chi lo vuole rivedere per chi invece non l'ha visto e speriamo che lo riguardino lo guardino in tante e tanti noi ci rivediamo lunedì 9 dicembre sempre alle 18 e parleremo del processi percorsi nati in Europa diciamo sull'onda del neomunicipalismo quindi li analizzeremo sia nei pregi sia nelle potenzialità sia nei limiti in particolare parleremo dell'esperienza di Barcellona in comù quindi della città di Barcellona e dell'esperienza di Mozemo a Zagabria in Croazia quindi credo che sarà interessante anche questo quinto incontro che faremo ancora grazie a Cristiana e Caterina e grazie a chi è intervenuto o che ha ascoltato ci vediamo presto ciao grazie mille ciao 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 a tutti e tutti grazie grazie a tutti grazie a tutti